Sono 38 i comuni della provincia d'Imperia risultati virtuosi in fatto di presentazione di programmi di riciclaggio dei rifiuti. In totale in Liguria i comuni sono 83 che riceveranno il primo milione di euro dalla legge 20 sulla raccolta differenziata approvata dalla giunta Toti alla fine dello scorso anno. Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale all'ambiente e al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone al termine della riunione del comitato d'ambito regionale che ha effettuato la valutazione dei programmi sulla base dello screening compiuto dagli uffici regionali, provinciali e di ARPAL. I comuni erano stati incentivati a presentare le richieste in forma aggregata e ad orientarsi verso il passaggio al porta a porta. Tra i criteri individuati per la selezione dei comuni da premiare anche la percentuale di cofinanziamento proposta ed il merito tecnico degli interventi inseriti nelle proposte. La provincia d'Imperia è risultata quindi quella con il maggior numero di comuni premiati, appunto 38, davanti a Genova 25, Savona 13 e la Spezia 7. In particolare in provincia d'Imperia i comuni saranno finanziati per un totale di 196 mila euro.